Uno strumento in più per aiutare i giovani di oggi e del domani a crescere come cittadini. Nelle scorse ore la Società di Mutuo Soccorso Saviglianese, in collaborazione con il Comune di Savigliano e il supporto della Fondazione CRS, ha consegnato ai miei diciottenni una copia della Costituzione italiana. La consegna è venuta al Cinema Aurora nel corso di una mattinata, che ha visto coinvolte tutte le quarte degli istituti cittadini a Rimondi Eula, Cravetta Marconi e Knosfap. 13 in totale, le classiche sono state coinvolte. Ospite d'eccezione è stato lo storico frontman dei nomadi Danilo Sacco, che ha ripercorso davanti alla platea di giovani saviglianesi le proprie esperienze di vita e la propria carriera musicale. Al pomeriggio, presso la Sala del Mutuo Soccorso, la cerimonia di consegna è stata replicata per i ragazzi saviglianesi che frequentano le scuole fuori città. È stato un momento che abbiamo fortemente voluto, commenta l'assessore alle politiche giovanili Filippo Mulassano. La Costituzione italiana contiene i diritti e i doveri di ciascuno di noi e, come più volte evidenziato anche nel corso della mattinata, resta la bussola del nostro paese. Darne una copia ai ragazzi e alle ragazze di Savigliano è stato un passaggio importante per far acquisire maggior consapevolezza nel loro ruolo di cittadini.